Sono stati beccati con oltre due chili e mezzo di hashish lungo l'autostrada del sole per due trafficanti di droga, sono così scattate le manette. È successo mercoledì sera attorno alle 21 quando la polizia stradale di Arezzo ha fermato per un controllo lungo la carreggiata sud della 1 una Mercedes con targa italiana e con a bordo due uomini che non hanno fornito spiegazioni convincenti riguardo ai motivi del viaggio. È quindi scattata la perquisizione e dal bagagliaio è saltata fuori una busta di plastica contenente cinque panetti di cellofan, dentro droga per due chili e mezzo dal valore complessivo stimato in oltre 65.000 euro sul mercato dello spaccio. I due avevano anche contanti per più di 4.000 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Per tutti e due è scattato l'arresto, la droga, l'auto e il denaro sono stati invece sequestrati.